Natale, tempo di sogni e di divertimenti per tutti. La Mongolfiera, il centro commerciale, anzi il parco commerciale Mongolfiera di Taranto è come al solito protagonista. Ho al mio fianco il dottor Stefano Del Rico che ne è il direttore. E allora direttore, una offerta per tutti i gusti, per tutte le età. Si vive il Natale qui in Mongolfiera a 360 gradi. Sì, assolutamente. Come ogni anno cerchiamo di dare il massimo. Quest'anno lo stiamo facendo già dai primi giorni di dicembre. Abbiamo realizzato un mercatino natalizio che parte dal 6 e si esaurirà il 24. E all'interno del centro commerciale è un mercatino bellissimo fatto dai nostri hobbyisti, dagli artigiani, nonché da prodotti tipici di eccellenza alimentare della regione. E poi abbiamo un ricco programma di eventi dedicati ai bambini. Quindi avremo il Grinch, avremo Babbo Natale ovviamente che ospiterà i bambini qui nella casa, nell'albero di Babbo Natale, che è possibile visionarla quando si vuole ed è possibile farsi dei selfie liberamente. Ma che ovviamente verrà animata in vari momenti. Quindi la letterina Babbo Natale, piuttosto che appunto scherzare e giocare con il Grinch, come dicevo, e tante iniziative. La piccola tombolata del 23 dicembre. La piccola, dico perché quest'anno per la prima volta, durante la notte bianca del 23, quindi dove noi chiuderemo alle 24, non ci sarà la tombolata dei grandi, ma ci sarà un'altra iniziativa molto bella. La tombolata prima sarà quella dedicata ai bambini. Successivamente invece ci sarà un'estrazione, diciamo, della prima fase del concorso, l'albero dei desideri, che già dalla settimana prossima partirà. I clienti potranno, grazie alla spesa quotidiana, con degli scontrini da 20 euro e multiple, potranno ritirare al desk una Christmas card con la quale partecipare all'estrazione del 23. Per poi partecipare anche all'estrazione del 6 gennaio, perché se non dovessero essere fortunati il 23, potranno sempre... Una seconda chance. Anzi, una seconda e una terza, perché potranno giocare all'instant win dal 27 dicembre fino al 6 gennaio, sempre presso i desk, oppure partecipare alla mega estrazione, dove ci saranno 2000 euro di buoni shopping in palio del 6 gennaio. Quindi buoni shopping dappertutto, per tutti, diciamo, per tutte le tasche, sia da spendere nel centro commerciale che nell'Ipercop. Beh, è un Natale in cui fate sì che anche i più grandi si sentano piccini, per così dire, perché poi il Natale è quella ricorrenza, quella festa che ci riporta all'infanzia, ed è bello così farsi accarezzare dal fascino di Babbo Natale. Beh, in realtà io sento molto il Natale, sono un appassionato di questa ricorrenza, quindi ogni volta riesco a ritornare bambino, a entusiasmarmi, forse anche grazie alle mie figlie che riescono a darmi questo entusiasmo. Quindi ogni anno io cerco di curare tutti i dettagli. Effettivamente quest'anno, apportando delle novità, novità che si devono unire alla tradizione, quindi cosa c'è di meglio di un mercatino, di iniziative per bambini. Quest'anno, anzi, una cosa che dimenticavo, abbiamo anche voluto essere un po' più tecnologici e abbiamo fatto una slitta 3D, una slitta 3D di Babbo Natale. Cioè è possibile venire qui e provare l'esperienza di andare a fianco a Babbo Natale durante la consegna dei doni del 24 dicembre. Quindi, insomma, guarda, veramente Luigi, ci siamo divertiti, abbiamo creato luce, luminosità, armonia soprattutto. Armonia è questo credo che sia fondamentale. Che dire, il centro mongolfiera, una città nella città? Assolutamente, oggi il centro, e tu hai detto bene prima, l'hai chiamato Parco, perché ormai è un parco. Abbiamo un distributore di carburanti, abbiamo Euronics, abbiamo Epicasa, Globo, Mission du Monde, Mr. Toys all'esterno. Quindi è bene parlare di Parco. Ci saranno tante novità che lo renderanno ancora più Parco nel 2019 ed effettivamente possiamo immaginarlo come una comunità vera e propria, come una piccola città. Per far sì che il, consideriamolo come un comune per così dire la mongolfiera, per far sì che il Natale sia gioia comune per tutti. Assolutamente, anche perché in questo periodo dove magari gli umori non sono esaltanti, non tutte le famiglie attraversano dei momenti particolarmente felici, soprattutto insomma nella nostra città, è bene, quello che noi vogliamo regalare ai nostri clienti è comunque una serenità, a prescindere dai doni o da quello. Venire qui nel nostro centro commerciale vuol dire condividere con noi un po' di questa armonia e di questo entusiasmo. Allora, Buon Natale a tutti, qui dal Parco Mongolfier. Auguri davvero a tutti che possiate passare una serena, una Natale e un inizio di anno nuovo sicuramente che diciamo degno e che vi meritate. Allora, Buon Natale a tutti.